È il giorno 1 della fase 2 per l'Aquila che toglie lucchetti da parchi, giardini e aree verdi. Ci si potrà sedere sulle panchine, ma uno alla volta si dovrà tenere sempre conto del distanziamento sociale e evitare assembramenti anche nelle aree per cani. I bambini vanno accompagnati da una persona. Passeggiate, attività motorie sono consentite individualmente, ma sono chiuse le aree giochi per i bambini nei parchi. Mascherini e dispositivi di protezione, chiaramente. Parco del Sole, Castello, ma anche parchi periferici come Unicef e Dog Garden torna una nuova vita, con un sistema di regole diverso. Le forze dell'ordine continueranno a vigilare, mentre il gruppo ANA del Nono Alpini scende in campo da oggi per la consegna di guanti e mascherine nei parchi a chi ne è sprovvisto. Saranno consegnate anche nelle bottigliette d'acqua per tutta la settimana a chi fa corsa nei parchi. A chiarire la situazione è l'assessore all'ambiente del comune, Fabrizio Taranta. Parte questa mattina la tanto attesa fase 2 di questa emergenza. È una fase delicatissima, quindi chiediamo ai nostri cittadini la massima collaborazione affinché tutti i sacrifici fatti fino a questo momento non siano buttati all'aria da comportamenti irresponsabili. Soprattutto in questa fase ci serve grande senso civico e una grande attenzione. I parchi per i bambini sono ancora chiusi, così come stabilito dallo stesso DPCM. Da oggi, oltre all'ingresso nei parchi, è possibile anche tornare a fare visita ai propri cari defunti nei cimiteri. Anche qui ovviamente raccomandiamo di mantenere le giuste precauzioni e cioè evitare gli assembramenti e mantenere il distanziamento sociale dove non è possibile l'utilizzo della mascherina. Da oggi abbiamo ripreso le manutenzioni poiché nel periodo precedente ovviamente le ditte erano bloccate per le questioni che tutti conosciamo. Stiamo concentrando i nostri sforzi nei parchi per permettere ovviamente ai nostri cittadini di poterne fluire nel modo più adeguato. Abbiamo la collaborazione in questi giorni anche per queste prime settimane anche del gruppo alpini del nono reggimento che provvederà anche a distribuire le mascherine dove dovesse essere necessario e se ci sono delle persone che non le hanno a disposizione nella frequentazione dei parchi e dei cimiteri e delle bottigliette d'acqua. Li ringraziamo ovviamente per il loro spirito di collaborazione e per questa iniziativa. Per ora non riapre il mercato giornaliero di Piazza d'Armi, anche se un'ordinanza regionale lo consentirebbe con le dovute prescrizioni. Alberto Capretti, presidente regionale di FIVA Confcommercio, dichiara che ci si sta lavorando per riorganizzarsi con il sindaco Biondi e l'assessore al commercio Raffaele Daniele. Gli ambulanti hanno chiesto, ricorda Capretti, un incontro con l'assessore Febbo e sono in attesa.